Un solo medico in pianta organica con un contratto a tempo determinato, costretto a fare salti mortali per garantire la piena attività del reparto, tre l'infermiera in servizio, due os, per una situazione che rasente il paradosso, a scattare la fotografia. Sul reparto di oncologia dell'ospedale di Sulmona ci hanno pensato questa mattina la senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Fedele. Il nuovo blitz è stato messo a segno all'indomani della raccolta firme scattata grazie al Comitato dei Malati Oncologici, il cui portavoce Giuseppe Pergola è all'allarme lanciato dal Tribunale per i diritti del malato per il tramite del suo coordinatore Catia Puglielli. Le attività di monitoraggio del Movimento 5 Stelle avviene su scala nazionale ed era cominciata alcuni mesi fa, prima delle elezioni regionali il 10 febbraio, oggi la nuova visita sorpresa che si è concentrata maggiormente su oncologia. Purtroppo il problema è sempre lo stesso, è quello della carenza del personale medico e quindi la difficoltà degli operatori di portare avanti un importante lavoro di assistenza sanitaria che però constatiamo che viene comunque portato avanti, quindi la buona volontà di questi operatori non manca, è sempre la volontà politica quella di poterli mettere in condizioni di poter operare sempre meglio. E' chiaro che però la politica della sanità è nelle mani della regione, quindi ripeto quale momento migliore questo nuovo insediamento, nuova giunta, ricominciamo da capo anche se i problemi sono sempre gli stessi. Così interviene la senatrice di Girolamo riferendosi alla regione dell'era Marsiglio, sulla stessa lunghezza don del consigliere fedele. E' necessario soprattutto alla luce dello sblocco per le assunzioni che il ministro Grillo ha disposto che la regione intervenga immediatamente e intervenga anche in maniera efficace. Sarà nostra responsabilità infatti fungere da sprone e da controllo per la giunta Marsiglio perché queste risorse vengono impiegate efficacemente e immediatamente. Parliamo di servizi come il servizio sanitario che non può certo subire le lungaggini spesso della burocrazia e della politica. E quanto incalza il pentastellato, non senza rimarcare che oggi doveva esserci con noi anche la maggioranza della regione, ma non voglio far polemica perché servirebbe a poco. L'ospedale di Summona resta quindi l'osservato speciale da governo, regione, istituzioni a vario titolo. Ora però servono interventi concreti per risolvere quelle criticità che il tempo può solo rendere irreversibili.